...fragento e delisa, e per delisio la voce della storia, Brasil, tutti qua le mani su Brasil, via le mani, le mani, le mani, la 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 la, suba le mani, la 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 la, cappellini, cante, divertimento, saluta, 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 e vai! Ci divertiamo alla grande, voglio vedere il tavolo in voci, direttamente da Milano anche, ci divertiamo, vai! Se, se, qua ci divertiamo, qua ci divertiamo!